Com'è stato girarsi con la macchina del dogo? Eh, il 3x3 ha voluto dire la sua opinione e pensare, perché non rifarci la Denauer? Diciamo che un collaudatore deve portarla al limite, lui l'ha trovato subito. Molin al limite allora. Sempre al limite. Bene, ragazzi è andata bene? Sì, ci siamo divertiti, è stato solo un attimo di... Sì, è stato tranquillo dopo. Bene, bene.